Bella ragazzi sono il trago rosso e bentornati in questo secondo gameplay di Black Ops 2 Innanzitutto ragazzi, innanzitutto vi faccio gli auguri di Pasqua anche se è un po' tardi perché sto facendo questo video alle 7.19 del pomeriggio, non è di mattina e niente, solo che al pomeriggio sono dovuto andare via, dovevo andare da mia nonna per il gran cenone e quindi mi sono liberato adesso, niente e come video faremo Black Ops 2 intanto che aspettiamo, almeno io, tento di arrivare dove siamo arrivati WTF? vabbè, siamo arrivati su Mortal Kombat 9 ecco, guarda che 9 sono adesso li uccido con questi akibbo niente, andiamo avanti e niente ragazzi, una novitone un grosso novitone che fermato che ci sono nuovi giochi che pensavo di prendermi e che presto farò dei video anche su quelli quindi, nuovi giochi in arrivo comunque ci sono questo dove corre? ti dico eliminato tanto, andiamo per di qua, no? e direi di fare la lamina uh, 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 cosa ho visto, cosa ho visto perfetto, bene eccolo lì, il mio bel sciacallo che non l'ho preso assist, ok eh, altre partite no c'è, altri nemici inizio a straparlare e la cosa non è che sia tanto bella ora, dove sono i nemici? dal radar vedo che sono tutti di là voglio fare un bel headshot posso farlo un headshot ne dico no, 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 no chi è, chi è, chi è? no, ma sei pazzito aiuto con questo treno che distrugge tutto dai, ricarica presto guarda, guarda, guarda guarda lo sapevo lo sapevo senti andiamo di qua che facciamo prima se c'è un nemico giuro ok uccisione confermata drone d'attacco pronto drone d'attacco come sempre drone d'attacco in azione il drone non sbaglia una mira oh cosa fai ah no pensavo che facessi i quickscope invece no non vuoi correre non corre senti mettiamo una cosa qua oh spavento dammi la borsella oh ma uccidilo vada l'hackshot proprio hackshot in testa bene vediamo siamo a 32 e intanto ehm si intanto ragazzi ho una domanda per voi chi chi se ne intende ora questo lo ammazzo c'è qualcuno che sa come eh farsi eh farsi i i punti ovvero i microsoft point per 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 si scaricare delle cose perché eh c'è un mio amico che che mi ha detto che quando si si raggiunge degli obiettivi che che viene anche fuori ha raggiunto un certo obiettivo e lì vengono i 20G 30G come si fa a a a convertirli in microsoft point serve un programma particolare o un'applicazione che bisogna per forza scaricare perché io non ne lo so tu sei veramente un ritardatario guarda un po sono a flasharlo e poi poi di ucciderlo anche senza mirare vai approvvigionamento pronto voglio vedere se se lo butto qua posso prenderli lo stesso o rimangono incastrati a proprio massi eh macchina la macchina da guerra alleata in uso questa questa mi mancava ecco c'è nessuno perché fammi vedere fammi vedere fammi vedere fammi vedere ecco se facciamo un bel po' di punti come spacca qui questa macchina c'è questa lancia gran ecco lancia granate sono tutti là non è che posso far così no ok niente scherzavo scherzavo via chi è che ha usato la flash e chi è che mi voleva sparare senti mettiamo questo coso qui eh che tanto non fa mai male toto what the fuck oh insomma sarebbe meglio ricaricare no sai com'è ecco dove sono dove sono dove sono dai 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 fattivi vedere fatevi vedere fatevi vedere ecco nemmeno ma la missione è quasi completata vedi no questo è il coso come si chiama guarda sto in mortale bam ok ancora due colpi attenzione perché ne ho visto uno si ok uno qua spero di fare la la killcam finale perché veramente se se non la faccio comincio a urlare che che sembra un pazzito quindi è meglio se la faccio io guai che chi mi ruba la la killcam finale ok è mio 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 e lo uccide benissimo ok come prima partita è andata molto bene ora possiamo vedere la nostra killcam ok e niente adesso vi saluto e ci vediamo per la partita numero 2 bella eccoci con la seconda mappa standoff che è una delle una delle partite più giocate e direi quindi giocare con la nostra come si chiama type 95 ovviamente tutta cromata di questo bel colore e possiamo andare avanti intanto vedere il il mirino ragazzi tutto cioè con la la forma del fuoco il che non è cioè all'inizio si dà un 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 po' fastidio ma dopo ci si abitua ci si abitua molto è anche molto utile mi hai rubato la killcam eh sì mi hai rubato l'uccisione tu che vuoi fare fermato no ma che non cominciare a ricaricare mentre quello la spara ma ma fate un po' capì no 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 ma sai salire capotano ah ecco no senti ricarica questa ecco sento degli spari oh caccia neutralizzata no vabbè qua non è mi fa niente ma porca puttana che fa che fa che vuoi fare tutto fermo lì dove era ah ecco fammi salire anche se non ho il fucile da cecchino no sai come si potrebbe fare no no qua non c'è più niente ok il cecchino è stato ucciso no oh lì mi vuole fare la coltellata ma quanti sono tutti in gruppo ma che 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 cos'è questa moda di fare tutto in gruppo ma vallò un po' capire ok no fanculo eh fanculo approvvigionamento in arrivo ora se qualcuno prova a sparare all'elicottero giuro due colpo fulminante in attesa di coordinate non so mi porto ora sulla vostra posizione colpo fulminante alleato in arrivo due conferme due ok due belle conferme ok oh cos'è eh ah la il il sensore nemico eh no eh che cos'ha un po' questo dove è andato non è andato quello quello con lo scudo non è andato dove è andato vieni un po' dove sei finito dove sei finito quello scudo però un po' capito ci deve confermare se abbiamo andato beh ah quello lì è il ballista quello là è il ballista bene non so come che cacchio è esploso tutto ma va andiamo andiamo questo gioco questo gioco non ha senso veramente dove siete perché vi nascondete volete capire mi devo prendere l'uav mi devo mi devo prendere l'uav perché non non li vedo si nascondono cazzo mi son bloccato mi son bloccato lì eh no scusa con lo scorpio nevo adesso aia che cazzo succede anche in questo mi son bloccato a terra ma salì eh disconnesso da Xbox Live what the fuck oh fucile a pompa eh no così no non va bene il fucile a pompa guarda 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 già li faccio multiplé multiplé attenzione ma vuoi morire oh multiplé guardali e ti sbriga caricare continuate così siamo in vantaggio si vede niente approfiggionamento in attesa ancora via visti approfiggionamento che non venire un mal di testa ancora un po' ah proprio sul carro armato missile Hellstorm missile Hellstorm pronto Hellstorm ok andiamo avanti fammi vedere fammi vedere fammi vedere spacchiamo cioè uccidiamo questi perfetto due uccisioni vanno più che bene ah per calamità elettrice ecco perché mi sembrava strano che cacchio succede ok abbiamo vinto anche la seconda partita e ci vediamo con l'ultima partita vi lascio vedere la keycam eccoci con la Nuketown 2025 la mappa più epica di tutto Black Ops perché ho quest'arma per non po' capire e eccoci con l'ultima mappa ho deciso di mettere per ultima questa mappa anche per fare una piccola sorpresa e niente si ho ho preso questa mappa visto che è molto famosa anche per Black Ops 1 beh qual è senza dubbio un cecchino senti che casino oh come è il scendere sai che è che spara in quel modo con il silenzatore ah eccolo ok c'è uno qua si tratta è stato ucciso che ma guarda un po' vai ricarica 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 poi lanciarazzi come arma secondaria che poi basta avere un pochino di mira basta fare così ok l'ho solo ferito ma basta che faccio così e non l'ammazzo lo stesso ok ho capito ma colpisco se c'è sempre qualcuno se lancio la stordente cos'è la cazzo guarda le faccio ancora e guarda lo colpisco ma c'è ma veramente ma non è normale sto gioco dai tu ecco no questo qui no ok ammazziamo questo senza mirare giusto tanto per lo lancio qua ah no stavolta non ne l'ho preso vabbè meglio meglio non so come ho fatto ok facciamo una cosa tanto epica mettiamo il coso di tanto ecco c'è l'elicottero che ha lanciato la cassa e adesso spero che non me la rubino perché veramente mi incasso ah no eccola l'uav proprio semplicemente c'è con tutto ma ho detto che i fucili a pompa non devono essere usati capito capito massimo massimo le mitrali perché c'è il drone d'attacco perché adesso non mi era più dove ah te l'ha preso questo su avvi in arrivo stordente lanciato eccolo uno cinquanta vabbè non è non l'ho ucciso però l'ho ferito adesso incasso dove sei beh oh sì mi sono quasi suicidato però però va bene l'ho ucciso ugualmente ok basta con i lanciarazzi ahia ma perché dovete uccidere sempre me ma uccidete gli altri guarda clamor distrutta non ho visto i punti ahia ahia guarda se lo sparo così cioè ne lancio così oh eh ma non potete non potete spararmi di pioggia dieta da da dietro capito ma merda perché devono usare sempre ma oh le continuate così siamo in vantaggio ma molto in vantaggio direi anche no era morto dai ricarica questo staggigio che cacchio fa ma l'ho uccido così e ok abbiamo vinto guarda si è rimasto in piedi lol e niente e grazie per la visione di questo video vi ricordo sempre di mettere un bel mi piace di commentare il video e ci vediamo a un prossimo video e buona Pasqua Grazie a tutti